La ragazza stanno girando un po' di foto di un ragazzo, le hanno parlato perché una ragazza conosciuta mi ha detto che all'ora di uscire ma lui gli ha detto che io volevo fare altre cose, però mi sei simpatica quindi vado via, mi ha messo un po' di paura. Questo è un passo psicopatico, non si sa che cosa c'è in testa, è andato in tre case diverse la stessa sera una dopo l'altra a uccidere quattro persone da coltellate, questo è un passo psicopatico e quindi io sto pensando di prendermi una guardia del corpo e pagare una guardia del corpo rinunciando alla metà del mio incasso per pagare una persona fissa, stabile fuori dalla mia porta. Le ragazze che lavorano questo mestiere lo fanno che è in notte, di mezzanotte fino alle 6-7 arrivano clienti ubriati, drogati, un po' malati. Sono pazzi, ma sto parlando di un 40% dei clienti sono pazzi, con la fusta, con le fare la bici. Qualcuno che ti picchia per i soldi, qualcuno che ti ruba i soldi, qualcuno che... Però queste cose credo succedano almeno una volta nella carriera al 95% delle ragazze.